uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone daie can you hear that dream weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi guardate che roba alle mie spalle all'impianto a pressione sono appena apparse le gambe del robot ragazzi sono enormi sono enormi quelle che vi avevo spoilerato nel video di questa mattina adesso sono realtà in game guardate che roba come si sta notando la costruzione è iniziata e ci avevamo preso le gambe sono grandi come le piattaforme di colore giallo sono un qualcosa di meraviglioso e nello stesso tempo di assurdo da vedere perché sono ben più alte dei palazzi più alti di neo inclinata ragazzi una roba meravigliosa che vi invito a guardare anche voi in game perdeteci ragazzi 10 minuti anche nella modalità creativa perché sono davvero assurde quindi ufficialmente l'evento è partito in game io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao iscrivetevi al canale